Ti do ufficialmente il benvenuto al video di presentazione di Montana Winning Products ovvero lo strumento definitivo per conoscere qualsiasi tipo di prodotto vincente per il tuo business di dropshipping e e-commerce ma partiamo subito con la spiegazione più dettagliata ed in particolare spieghiamo perché ho creato Montana Winning Products e perché ha un limite di accesso l'ho creato prima di tutto perché al giorno d'oggi più del 90% dei negozi in dropshipping falliscono in quanto i programmi per la ricerca dei prodotti vincenti sono veramente costosi soprattutto i top di gamma e non si conosce esattamente il livello di saturazione che per quanto riguarda i prodotti dropshipping è un fattore fondamentale risulta troppo costoso realizzare video professionali ed è difficile trovare le pagine e gli influencers Instagram da utilizzare per le tue campagne di marketing ok quindi questo è un aspetto fondamentale unico per Montana Winning Products ovvero di andiamo a suggerire gli Instagram influencer e le pagine influencer Instagram che devi utilizzare per generare traffico e ovviamente vendite infine ho creato un limite di accesso allo strumento Montana Winning Products semplicemente perché il problema di tutti gli altri strumenti è che sono aperti a tutti e quindi migliaia di persone vedono gli stessi identici prodotti mentre quello che vogliamo fare io e il mio team è creare una community selezionata di persone che vogliono veramente cambiare la propria vita con il dropshipping e noi metteremo a disposizione tutti gli strumenti utili, indispensabili per darti in mano i migliori prodotti vincenti del momento ogni giorno con tutte le caratteristiche per aiutarti a raggiungere i tuoi risultati il prima possibile come Montana Winning Products ti aiuterà esattamente una volta scelto il prodotto le uniche cose che dovrai fare sono contattare il fornitore e creare lo store tutte le altre cose le hai già pronte copy, video, immagini, store competitor per prendere i colori, i temi, copiare le strategie vincenti e ovviamente come abbiamo detto in precedenza ti forniremo una pagina o un influencer di riferimento per quanto riguarda le tue campagne di Instagram influencer marketing molto importante ragazzi quanti prodotti ci saranno avrai a disposizione un prodotto al giorno 7 prodotti alla settimana e 365 prodotti l'anno quindi ogni singolo giorno noi ti proporremo un prodotto completamente nuovo vincente che abbiamo già analizzato quindi ci tengo a sottolinearlo ragazzi che questo non si tratta di un bot o di un'altra automatizzazione ma semplicemente io e il mio team andiamo ad analizzare e studiare tutti i prodotti vincenti i migliori del momento e li andiamo a scegliere e selezionare per voi ma che informazioni troverai all'interno della pagina prodotto che noi ti andremo a fornire? prima di tutto il nome del prodotto quindi che nome dovrai utilizzare per il tuo prodotto le foto, la descrizione modificabile, il livello di saturazione per capire esattamente quanto quel prodotto viene spinto quanto sta vendendo, quanti competitors ci sono tutte le statistiche fondamentali per quanto riguarda l'analisi del prodotto, gli ordini, le recensioni dell'Espresso ovviamente le troverai tutte all'interno del Montana Winning Products il maggior competitor di riferimento su Facebook dal quale ricordo ragazzi di prendere sempre spunto come dallo store competitor, sempre prendere spunto da chi già sta vendendo i video e i copy su misura scaricabili quindi noi ti abbiamo già selezionato sia il video il miglior video che sta funzionando adesso per quanto riguarda quel determinato prodotto e il copy, di conseguenza il copy che viene utilizzato per vendere quel prodotto in questo momento targeting su Facebook, esattamente ti spieghiamo il miglior targeting dal quale partire e come abbiamo detto in precedenza fondamentale ragazzi la pagina o l'influencer di riferimento per quanto riguarda quel determinato prodotto quindi lo consigliamo noi direttamente dopo aver fatto ovviamente una ricerca su Instagram tra gli influencer migliori per quanto riguarda quel determinato prodotto della nicchia che ovviamente ti faciliterà la tua campagna di Instagram influencer marketing e infine ovviamente una valutazione generale per ogni singolo prodotto presente quindi diamo un'occhiata dentro a Montana Winding Products e vediamo esattamente come è strutturato giorno per giorno, settimana per settimana con un prodotto vincente ogni singolo giorno dal lunedì alla domenica ma andiamo per esempio a consultare il primo lunedì della settimana e vediamo come il prodotto vincente di riferimento, strumento per allenamento di tennis è già qui pronto per noi con la pagina prodotto già impostata grazie al copy e ovviamente all'immagine principale abbiamo consigliato il prezzo, abbiamo inserito il livello di saturazione medio statistiche di Aliexpress ovviamente analizzate e studiate dal nostro team abbiamo anche a disposizione ovviamente i link diretti per il prodotto di Aliexpress quanto tu non dovrai neanche andartelo a cercare cliccherai semplicemente su questi pulsanti e già avrai a disposizione oltre ovviamente il link di Aliexpress del prodotto avrai a disposizione anche il miglior competitor Facebook e il miglior negozio store competitor di riferimento dal quale ovviamente copiare, carpire e migliorare tutte le strategie vincenti e come abbiamo specificato in precedenza il video di copy consigliati per quanto riguarda il prodotto del giorno qui potete tranquillamente scaricare il video con il pulsante scarica il video il copy che abbiamo ideato per voi analizzato e studiato il target Facebook consigliato quindi principalmente le macro categorie di riferimento per targhezzare il tuo pubblico in modo da targhezzare le persone che più facilmente compreranno il tuo prodotto e ovviamente la pagina Instagram consigliata per la sponsorizzata qui cliccando su questo pulsante verrà rindirizzato direttamente alla pagina Instagram che dovrai contattare per la tua campagna di Instagram Influencer Marketing fondamentale per qualsiasi dropshipper e infine troviamo la valutazione generale del nostro prodotto del giorno ovvero l'effetto wow la risoluzione del problema la quantità di interessi su Facebook la quantità di pagine Instagram che si possono utilizzare per fare le nostre sponsorizzate e il potenziale di questo prodotto quindi il potenziale di scaling e il potenziale di guadagno tutto è racchiuso in questa valutazione generale che devi padronizzare per avere successo con il tuo negozio di dropshipping una valutazione complessiva per quel determinato prodotto del giorno quindi ogni giorno noi ti diamo tutto questo per un prodotto diverso ogni giorno un prodotto diverso ogni giorno un prodotto vincente quindi puoi dire addio allo stress e dare benvenuto ai risultati con Montana Winding Products non dovrai più stressarti a cercare prodotti e non dovrai spendere soldi per i test ogni prodotto inserito nella lista è studiato e verificato da noi del team quindi da persone fisiche e concrete che fanno questo da anni e che soprattutto non sono dei robot e per chi già mi conosce sa benissimo quanto considero importante il supporto da parte di noi esperti verso chi sta iniziando quindi abbiamo messo a disposizione un gruppo privato di supporto su facebook all'interno del quale potrai fare qualsiasi tipo di domanda e quindi ricevere un aiuto concreto e reale da parte di noi esperti scegli il piano che fa per te Montana Winding Products si divide in accesso mensile ed accesso annuale tra questi due piani non cambia assolutamente nulla l'unica differenza è che con il piano mensile avrai accesso solamente a 30 prodotti quindi per 30 giorni, i primi 30 giorni del tuo piano avrai accesso ai prodotti vincenti a Montana Winding Products mentre con il piano annuale avrai accesso a ben 365 prodotti quindi uno al giorno per un anno risparmiando però ben 120 euro quindi capisci bene come conviene notevolmente entrare a far parte del Montana Winding Products con un accesso annuale che ti dà la possibilità di avere centinaia e centinaia di prodotti vincenti ogni singolo giorno diversi l'unica cosa che devi fare è accedere adesso e diventare un dropshipper di successo se hai la fortuna di entrare in questo momento non perdere tempo e accedi se invece è già chiuso iscriviti alla lista d'attesa per essere avvisato sulla prossima riapertura infatti come abbiamo specificato precedentemente abbiamo creato uno strumento DELETE per poche persone determinate che vogliono veramente cambiare la propria vita grazie al dropshipping quindi per il momento si potrà entrare ed accedere solo per un'ora al mese ma c'è la possibilità che da un momento all'altro chiuda per sempre quindi non perdere più altro tempo e accedi subito ed immediatamente al Montana Winding Products grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.